Sono Andrea Membretti, sono il coordinatore scientifico del progetto Horizon 2020 Matilde, che si occupa di valutare l'impatto dell'immigrazione straniera nelle aree rurali e montane europee. Siamo in Valsusa, a Bussoleno in particolare, è uno dei due casi di studio italiani di questo progetto che ha 25 partner in Europa, l'altro caso di studio è l'Alto Adige. Qui ci concentriamo sulla presenza straniera in relazione ad alcune comunità più rilevanti, marocchina, albanese, rumena in particolare, all'impatto che hanno sul territorio, in termini ovviamente di contributo alla crescita di questo territorio, e il tema di cui ci stiamo occupando è poi quello degli spazi pubblici, luoghi di incontro tra le diverse comunità. Stiamo sviluppando un laboratorio insieme all'amministrazione comunale, con il coinvolgimento anche di un gruppo di miei studenti dell'Università di Pavia, di Ingegneria, Edile e Architettura, e stiamo riflettendo su come riprogettare alcuni spazi, sia della città di Bussoleno che del contesto delle montagne appena qua intorno, spazi che possono avere a che fare con l'incontro, anche con la produzione, col tema delle economie circolari, la riscoperta dell'agricoltura, della viticoltura eroica, tutti i temi che vogliono mettere in relazione le diverse comunità, con uno slogan che va appunto dalla cura del territorio alla costruzione di una comunità condivisa. È un percorso che abbiamo iniziato in queste settimane, che andrà avanti con la partecipazione di soggetti locali, di comunità appunto locali e dell'amministrazione fino all'autunno, fino alla restituzione dei risultati entro la fine dell'anno.